Italo arriva a Termini nel centro storico di Roma, poco distante dalle antiche Terme di Diocleziano che alla grande stazione romana hanno dato il nome. Dal 15 giugno, con il nuovo orario estivo, i treni Rosso Maranto di NTV approderanno infatti alle banchine di Termini con i primi no stop che collegano Milano alla capitale e viceversa.